Quanto poco siamo abituati ad ascoltare, noi vogliamo parlare di solito con la gente, con le persone, con gli altri nel mondo, nel lavoro, nella famiglia, dobbiamo dire quello che pensiamo, dire quello che siamo, quello che vogliamo fare, ma quante poche volte ci mettiamo in ascolto degli altri. E così facciamo con Dio, lui ci parla e noi spesso siamo le pecore che fanno finta di seguirlo e poi andiamo per le valle oscure, perché non abbiamo ascoltato la sua voce che mi diceva Luca girati, vai avanti, fermati lì, torna un po' indietro. E quando io non ascolto la voce del mio pastore mi perdo. Il Sanno 23 dice andrò in una valle oscura, ma anche lì non temo alcun male perché tu sei con me. Gesù è il mio buon pastore.